Assessore, quale visione per lo sviluppo del turismo siciliano? Io credo che le due parole magiche sono la destagionalizzazione dell'offerta turistica e l'uniformità dell'offerta turistica. Sono le due criticità maggiormente rilevanti che hanno arrecato all'offerta turistica siciliana grave difficoltà nel passato. Noi in questi primi mesi di gestione dell'assessorato stiamo ripartendo da queste due direttrici. Per quanto riguarda la destagionalizzazione dell'offerta turistica, possono essere una serie di iniziative come quella della concessione ai liti balneari negli altri periodi dell'anno, non soltanto nel periodo estivo. Quello del rafforzamento di altre offerte e prodotti turistici come quello culturale. Questo rapporto con i 42 comuni del CUNES, dei comuni che sono oggetto dei siti UNESCO, sta andando molto bene. Sta andando molto bene anche il prodotto enogastronomico, veniamo da un Vinitali straordinario, il 70% dei turisti viene in Sicilia per motivazioni enogastronomiche legate al prodotto enogastronomico. Abbiamo la dieta mediterranea che è un bene UNESCO immateriale e i nostri prodotti tipici, i nostri dolci non sono secondi a nessuno nel mondo. E abbiamo anche rafforzato la DMO naturalistica, il prodotto turistico naturalistico perché anche nella destagionalizzazione dell'offerta turistica, soprattutto nelle mezze stagioni, abbiamo una domanda sempre in crescita sui sentieri, i sentieri turistici, i parchi naturali, le riserve e quindi sono un tema attualissimo. Una sfida ma anche un'occasione viene dalla nuova programmazione europea, ci sono soldi che saranno spesi anche nel turismo? Assolutamente sì, abbiamo tre interventi che ci stanno a cuore, il primo è quello che riguarda i beni e i servizi turistici, abbiamo la necessità di mettere in rete tutti gli itinerari turistici, dai borghi più belli d'Italia ai comuni UNESCO e agli altri comuni che principalmente possono fare turismo, che sono sicuramente una cinquantina, sono i grandi attrattori e questi sono messi in rete con prodotti turistici come ad esempio il bike sharing, le città intelligenti, nel rapporto anche con i prodotti tipici e la no gastronomia. Poi abbiamo 220 milioni di euro sull'asse turismo e beni culturali, anche questi sono interventi che riguardano i grandi attrattori e alcune isole minori come ad esempio le olie e pantelleria. E poi abbiamo altri 60 milioni di euro per gli aiuti alle imprese che è una misura a cavallo con le attività produttive, vogliamo valorizzare questi importi soprattutto per una parte rivolta alla parte pubblica perché deve essere garantita e con pesature inferiori ai 500 mila euro in modo che possono essere avvantaggiate anche diverse strutture. Non si rischia la frammentazione? No, 60 milioni di euro frammentati per pezzature di questo tipo non credo, perché poi non è che sono 600 milioni di euro, è una misura giusta di 60 milioni di euro e credo che va divisa e ripartita in tutto il territorio. Ricordiamoci ad esempio nel sud-est dove il turismo ha dati fortemente in crescita, si parla compreso i dati in nero di più 38 e oggi ci sono gli alberghi a Siracusa, nel resto della provincia è difficile trovare alberghi aperti in inverno e in estate c'è qualcosa in annoto. Quindi ci sono dei problemi serissimi della concentrazione delle strutture ricettive nelle province che quindi vanno risolte con queste misure.